La famiglia dei 40 cavalli Yamaha, i fuori bordo senza obbligo di patente, include il leggerissimo F40F, il tre cilindri da 747 cm3 e due modelli a quattro cilindri da 996 CC, due bolidi che in acqua dimostrano tutta la loro grinta. Yamaha, pioniera, innovativa, costantemente proiettata nel futuro, da sempre capace di stupire, di creare oggetti del desiderio in un'armoniosa combinazione di tecnologia, prestazioni e stile. Sono questi i motivi per cui quattro persone su dieci nel mondo scelgono i suoi fuori bordo. La rete di concessionari ufficiali sono la voce di Yamaha. Passione e competenza li contraddistingue. Nessuno, meglio di loro, conosce i vantaggi di scegliere un fuori bordo Yamaha. I motori Yamaha F40H ed F40G possono essere installati su pilotine da pesca, barche, gommoni di 6 metri o più, trasportando 5-6 persone con prestazioni elevate. Allo stesso tempo, grazie alla curva di copia e potenza che hanno questi motori, si possono utilizzare elica o passo lungo per ottenere velocità elevate. I modelli a quattro cilindri hanno prestazioni più elevate rispetto a tre cilindri e il modello F40G, grazie alle 16 valvole, risulta essere il motore più potente nell'ambito di questa cilindrata. Solo Yamaha offre di serie sui motori da 40 cavalli due accessori, il Trolling Mode e l'immobilizer Y-COP. Yamaha fornisce tutti i suoi motori del sistema immobilizzatore Y-COP, che impedisce l'avviamento del motore se non è presente il trasponder sullo scafo. In caso di furto il motore non può essere avviato. La funzione Trolling Mode consente di variare il regime minimo a marcia ingranata in modo da regolare l'esatta velocità della barca per la pesca alla trail. La durata media di un motore agli effetti della corrosione è di circa tre anni. Yamaha ha investito moltissimo nella ricerca per rispondere in modo efficace a questo problema e ci è riuscita. Ha studiato e brevetato una speciale lega di alluminio e una verniciatura a cinque strati per difendere i propri fuori bordo dagli agenti corrosivi. Il nostro lavoro non è semplicemente quello di vendere un motore. Per noi è fondamentale che il nostro cliente si senta sicuro in mare. Per questo Yamaha ha dotato tutti i suoi motori di un sensore che rileva l'eventuale presenza di acqua nel carburante, indicandolo direttamente sullo strumento. La gestione totalmente elettronica del motore riduce moltissimo i consumi, oltre alle emissioni. Abbiamo effettuato dei test comparativi per verificare il rapporto consumi-velocità. A tutte le velocità di utilizzo l'F40H ha registrato i consumi più bassi. Se parliamo di velocità massima, il risultato non cambia. L'F40G ha registrato una velocità superiore a tutti i regimi, con una velocità massima di 51,9 km orari. I marchi che hanno fatto la storia sono quelli che si sono presi cura dei loro clienti, di ognuno di loro. E Yamaha questo lo sa bene. Il programma Satisfaction C è l'impegno di Yamaha verso i propri clienti. Cinque anni di garanzia su tutta la gamma, formule di finanziamento agevolate, trasparenza su listini al pubblico. Qualità premium dei servizi post vendita, grazie ai percorsi di formazione e ragionamento obbligatori per la rete. Il cliente al momento dell'acquisto del motore Yamaha conosce i costi delle manutenzioni dei primi anni di vita del motore. Oggi ci sono tutte le condizioni per acquistare un motore Yamaha a 40 cavalli, al miglior prezzo e alle migliori condizioni. Solo fino a fine luglio, grazie agli incentivi Satisfaction C, puoi risparmiare ben 900 euro su entrambe i modelli rispetto al prezzo di listino al pubblico. L'F40H costa 5.165 euro, mentre l'F40G è disponibile a 6.775 euro. In più, se acquisti motore Yamaha entro fine luglio, puoi pagarlo comodamente dopo l'estate in 24 mesi con finanziamento Tan Zero e Tiger 455.